Dopo 50 anni tornano agli Uffizi 144 opere tra dipinti, sculture, ceramiche e mobili che il conte Alessandro Contini Bonacossi donò a Firenze con un decreto dell'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. I pezzi saranno collocati nelle nuove sale color verde salvia al primo piano della Galleria degli Uffizi. I nuovi spazi allestiti ed aperti grazie al sostegno di Amici degli Uffizi e Friends of the Uffizi Galleries permetteranno di inserire nel percorso ordinario del museo le opere del prestigioso Lascito. Dopo la donazione nel 1969 prima la collezione era allestita a Palazzo Pitti, poi nel 1998 è stata trasferita in via Lambertesca dove era accessibile però sempre a pochi gruppi di persone perché i spazi erano angusti e l'allestimento riprendeva un po' il gusto dell'antiquariato del primo novecento, cioè un po' un allestimento come fosse una casa immaginaria del Rinascimento. Adesso invece l'abbiamo installato come parte del normale percorso degli Uffizi e quindi invece di avere pochi migliaia di visitatori durante l'anno tutti i due milioni e duecentomila visitatori che vengono a vedere gli Uffizi potranno ammirare il San Lorenzo di Bernini, il grande capolavoro che vediamo dietro le mie spalle e anche tutti i grandi capolavori della pittura italiana del 3 e del 400. Tra i capolavori esposti, oltre al San Lorenzo di Gian Lorenzo Bernini, anche la Madonna della Neve del Sassetta, il San Girolamo di Giovanni Bellini, la Pala del Bramantino, il ritratto di Giuseppe D'Apporto col figlio del Veronese e opere di Velasquez, Goya e Crespi.